buongiorno e buona giornata e buona settimana a voi tutti cari amici da nicola de lucia la deluxe television partiamo questa nuova giornata e settimana con il video dedicato al massimo campionato di serie a di calcio maschile giornata numero 24 posticipo dalla domenica lazio in purtroppo l'inter non ce l'ha fatta e bianco celesti si sono imposti per 2 a 1 quindi la classifica vede pensate un po la juventus prima 57 punti la lazio seconda 56 e l'intera 54 terza con una sconvitta due pareggi e due vittori nelle ultime cinque partite mentre per la lazio sono tre vinte due pare nelle ultime cinque e per la juve tre vittori due sconviste nelle ultime cinque inter che nella prossima partita affronterà in casa il 23 febbraio la sampdoria riduce dalla dura sconvitta contro la fiorentina per 5 a 1 ed è dici a settesima quota 23 punti l'inter invece no la alassi invece andrà a genoma sempre il 23 febbraio che anche se ha fatto due vittori di fila nelle ultime due partite ma è sempre nella zona calda retrocessione diciottesimo posto acqua da 22 punti la juventus il 22 febbraio si regherà in casa della spalla che la spalla praticamente chiude la classifica della serie a ventesima a 15 punti 4 sconvitte nelle ultime cinque partite quindi chiudo per questo primo video ribadisco lazio batte inter 2 a 1 e si porta meno uno dalla juventus a quota 56 punti al secondo posto ciao